Cirano appunto relativamente perché l'Umana Reier per ora è stata precisissima nel tiro pesante Tucker va su, appoggia il tabellone L'attacco di De Nicolao che vede un varco, scarica per Tucker La partenza di Rajon Tucker E la stoppata grandissima da parte di Sims Dall'altra parte c'è il canestro di Tucker Come ha la primo possesso dell'Umana Reier, sei da recuperare Palla sotto per Rajon Tucker, la sinistra parte Attenzione agli spazi chiusi dalla difesa di Sassari Ancora mani abbastanza addosso Ci prova a tessitori, la tripla Rajon Tucker Parte, parte Eh sì, vuole andare, sta guardando già il ferro, fa tutto lui Fermata l'Umana Reier, quota 49 Pronto ad entrare Andrea De Nicolao Lo scarico per Spissu che ci prova con la tripla frontale A segno 24, toglie Tucker dal ferro E poi va alla transizione, alza per Sims Il gancio di Amir Sims Heidegger Il pallone per Rajon Tucker Duello ancora con Tyree Prova a farsi largo Tucker Appoggia il tabellone Ancora Spissu Per Tucker Che prova ad andare via Tyree Ancora duello molto fisico La sospensione Rajon Tucker Per l'Umana Reier Prova a prenderselo Rajon Tucker Alza la parabola Sbaglia Prende rimbalzo E segna A due secondi Prende rimbalzo Per l'Umana Rei Grazie.